Roberto Menia, si registra un avvicinamento tra il movimento sovranista e la Lega Nord. Che cosa sta succedendo e con quali modalità avviene questo avvicinamento? Beh, sta accadendo questo. Noi, io e c'è me a Gianni Alemanno, a Francesco Storace, ad altri spicchi di destra dell'ex alleanza nazionale abbiamo creato un movimento con l'intento di riunire ciò che era possibile con appunto il mondo della destra. Il fatto che con Fratelli d'Italia ormai si registra non è possibile, ma per quanto ci riguarda soprattutto guardiamo le prossime elezioni politiche in arrivo. Le prossime elezioni, come è evidente, nel campo del centrodestra ci sarà una sorta di derby tra Berlusconi e Salvini. Salvini, riteniamo, dica cose molto chiare a proposito di sovranità da riconquistare nei confronti dell'Europa senza fuoriuscite o follie, ma cose che tutti sentono, gli italiani sentono che si sta male in questa Europa, in questo contesto, dice cose chiare a proposito di sicurezza, a proposito di essere padroni a casa propria e questo vale per tutti. E questo fa sì che noi guardiamo a questa esperienza, una Lega che è diversa, che non è più quella secessionista di un tempo, Lega che toglierà il Nord non a caso, all'uomo che in qualche modo in questo derby può anche vincerlo e probabilmente sarebbe meglio per tutto il centrodestra, perché l'altra opzione, quella di Berlusconi, è un'opzione che io ritengo comunque un'opzione finita. Quanto alle modalità, si vocifera che Roberto Meni, a storico esponente poi della destra triestina e italiana, possa aderire con la tessera alla Lega Nord, succederà questo? No, si vocifera male ed è bene che questo si chiarisca, non a caso stavo parlando del Movimento Nazionale per la Sovranità, lo abbiamo fondato, lo abbiamo presentato qualche settimana fa proprio qua a Trieste, ha tra l'altro un simbolo tricolore che ricorda vagamente la fiamma che ha unito la storia di molti di noi, quelle che sono gli accordi tecnici in politica accadono e questo può accadere, ma al massimo un accordo con la Lega, non certo uno scioglimento, non andrò certo a prendere la testa, questo farà piacere anche a tanti leghisti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.